Siamo con Angelo Nisi dell'Associazione Pietre Vive, ci occupiamo delle Antonia di un momento particolare per la comunità lizzanese, non solo il momento ludico ma anche la valorizzazione delle tradizioni lizzanesi. Sì, sono 16 anni oramai che abbiamo avuto questa idea di rivalutare un attimino quelle che sono le tradizioni che caratterizzano poi questa comunità, partendo dai più piccoli, insomma riprendendo quei giochi di una volta che hanno fatto la nostra adolescenza, la nostra età da più piccoli e portandoli nuovamente all'attenzione delle giovani generazioni, quelle 3.0 che sono soltanto abituate ai videogiochi o a qualcosa del simile. Quindi abbiamo ripreso questa attività e devo dire che abbiamo avuto la fortuna di raccogliere l'adesione in maniera entusiastica dei bambini perché sono oltre 300 bambini che vengono tutti i pomeriggi qui a divertirsi, a cimentarsi con quelli che erano i nostri passatempo di una volta. Nello stesso tempo però ci siamo accorti che anche le persone adulte avevano qualcosa da dire, i bambini di ieri come diciamo, no? E quindi ecco tradizioni culinarie, abbiamo fatto il campionato nazionale di pasta fatta a casa, mi si passa il termine, ma le orecchiette, no? Oppure il torneo di Apricozze dove premiamo l'abilità di chi apre questo mitile tarantino che in qualche maniera caratterizza quella che è la nostra zona. Noi siamo un paese di mare e quindi per ovvie ragioni dobbiamo promuovere le cose di mare. Ecco noi lo possiamo preannunciare come Polifimo, L'Occhio di Abate e Delta TV, seguiremo qualche momento di queste Antoniadi dal momento che fanno parte proprio del tessuto socio-culturale della provincia ionica.